Io sono Calogero e questa è Licata, un paese di mare con un grandissimo porto e tantissimi marinai. Licata si trova in Sicilia, un'isola così grande che a volte faccio fatica a chiedere che lo sia. Calogero vieni qua! Lui è mio nonno e insieme passiamo intere giornate in giro sulla nostra motoate. E' lui che mi ha insegnato più di tutti i valori della famiglia. In casa dei nonni è sempre piena di nipoti che giocano, corrono ed io sono i più grandi. Allora prendere un po' di bacche. Calogero? Calogero? Vieni così ti insegna a cucinare i balavettate. Ciao, eccomi. Ciao Calogero vieni vieni che ora ti insegna a fare i balavettate. Lei invece è mia nonna. E come cucina lei non lo sa fare nessun altro. Chissà se un giorno sarò bravo come lei. Ma la cosa è certa. Io da grande sarò una chef. E avrò un ristorante tutto mio. Io sono Calogero e oggi sono uno chef. E questa è mia nonna. Quella vera. Bravo, bravo.